Questa è la madre, quasi bianca. Il padre è giallo ed ha il ciuffo. È quel maschio che passa il cibo alla femmina. Questi tre canarini sono nati nel 28-3 e hanno due giorni di vita. Questa è la madre. 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 La prima nidiata che ha nel gabbione è riuscito per venire a trovare la sua mamma. La sua mamma che sta covando, ma si può covare una seconda diviata che sono nati oggi. E dentro c'è un'altra femmina che sta facendo un'altra covata ancora. Ecco i tre nati dalla prima covata. Oggi 4 maggio sono nati i primi due della seconda nidiata. Ecco i bossi. Bossi Junior. Bossi Junior. Che è quasi pronto per volare. Bossi Junior. Bossi Junior. Bossi Junior. Bossi Junior.